Ad Ischia perché sceglie sempre di venire? Chi è che non vorrebbe tornare? Guardate dove siamo, guardate in che posto ci troviamo. Se c'è una persona che non vuole tornare qui ogni anno, che Dio lo benedica, deve avere qualche posto ancora meglio di questo, ma ho difficoltà a immaginare quale possa essere. Torno per la bellezza dell'isola, per la bellezza delle persone, per la capacità artistica. Del mondo cinematografico italiano e di tutto l'ambiente, torno per il cibo, torno perché Pascal Vicedomini è un fantastico organizzatore di questo festival, anche perché questo è un festival diverso rispetto a tutti gli altri. Non è un festival dove si fa solo business, dove si parla solo di lavoro, è un festival dove si condividono cose, si condivide il rapporto familiare, si creano amicizie, si condividono storie personali e questo è molto bello. E si fanno nuovi amici. Ogni volta che vengo qui a Ischia penso di voler realizzare, di girare un film qui. Ho già girato due film in Italia, l'ultimo dei quali è il Lamborghini, che sarà presente al Festival del Cinema di Roma ad ottobre. Trovo bellissimo, mi piace lavorare in Italia. Ovviamente ambientare un film qui mi piacerebbe farlo avendo la giusta idea. Finora non sono riuscita a trovarlo, magari me la puoi suggerire tu una.